Adesso attenzione perché sulle note di tutti i giorni e domenica dei Montel Noir entra sul ring Emiliano Marsini Allora da Civitamezia 35 vittorie e un pareggio Musica dal vivo al palatisiano Tutta per Emiliano Marsini Salutato avete visto in precedenza anche da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino suo grande amico ormai da tanto, da tanti anni vedete Mario Massai l'allenatore di Marsini Enrico Tantussi, suo co-manager e sponsor Ed eccolo qui Emiliano Marsini di fianco alla sua figliuola la figlia Manuela che ha la bandiera dell'Italia Ormai Maggiorenne è stata chiamata dal papà Emiliano sul ring E adesso veramente tutto pronto Ormai Maggiorenne è stata chiamata dal papà Emiliano Grazie a tutti. Le note dell'indo messicano per gli appassionati del rugilato, sentite mille volte, per grandissime battaglie e grandissimi campioni. Adesso l'indo italiano per Emiliano Marsili. Grazie a tutti.